Vabbè, sì, posso capirlo, insomma, ci vediamo fra un po' allora per la conferenza. Ma voi non avete proprio una tale anza che non potete aspettare un paio d'ore per scoprire lo scopo? Scusi, Presidente, Fiat, i francesi chiedono più garanzie. Lei è più concreto, guardi. Ecco, siete preoccupati che ci possono essere contraccolpi per gli interessi italiani? Guardi, come governo responsabile di un paese di fronte a un'operazione così importante che è un'operazione di mercato in cui ovviamente il governo, che non spetta dal governo orientale, però il governo sicuramente spetta la premura che si conserva in livello occupazionale, ma questo non riguarda solo per la FCA, riguarda per tutto il sistema dell'indotto che è fondamentale perché non dobbiamo trascurare l'indotto, quindi sono sicuramente, è una vicenda che seguo con molta attenzione. Però ci parliamo, vi faccio fare qualche domanda anche dopo la conferenza stampa. Ma si sente più sicuro di andare avanti? Ci rica solo questo, oggi più di ieri. Guardate, io mi impegno molto, sono sempre molto dettare un minato. Anche domani?